Vogliamo provare a non chiudere nulla, ma ci sono situazioni sulle quali è necessaria un'attenta riflessione, in particolare riguardo ai medici di continuità assistenziale, dobbiamo vederne di fatto l'utilità. Le guardie mediche costano alla Regione 23 milioni di euro e bisogna capire il ritorno in termini di efficacia, efficienza e salute. Il Presidente della Regione, Marcello Pittella, è stato chiaro in occasione della presentazione della rete integrata dei servizi per la gestione delle dimissioni protette, nata grazie ad un'intesa fra ASP e Ospedale San Carlo. Pittella ha poi sottolineato la volontà di voler continuare il dialogo con il territorio. Abbiamo già incontrato, ha spiegato il Governatore Lucano, il Comitato della Valdagri, ma il confronto ci sarà anche con il territorio del Senisese e con tutte le altre autonomie locali che vogliono partecipare e far sentire il loro pensiero. Intanto la rete integrata dei servizi per la gestione delle dimissioni protette rappresenta un primo passo che intende coinvolgere tutte le strutture sanitarie regionali, sia pubbliche che private. Un protocollo che mira a restituire il paziente al territorio, alla cura domestica o nelle strutture specializzate. Come funzionerà il sistema di dimissioni protette? Una volta dimesso il paziente, la struttura ospedaliera verificherà la disponibilità di posti letto nelle altre strutture pubblico-private. Nel caso si renda necessario, altrimenti organizzerà la presa in carico da parte della famiglia organizzando l'assistenza domiciliare. L'ASP ha poi previsto diverse app come l'elimina code agli sportelli di prenotazione delle visite o pagamento ticket oppure la possibilità di poter fare la scelta del medico di base da casa.